Buonasera signore e signori, stiamo per assistere all'incontro del secolo di Pallacanese. Buonasera signore, stiamo per assistere all'incontro del secolo di Pallacanese. Buonasera signore, stiamo per assistere all'incontro del secolo di Pallacanese. Buonasera signore, stiamo per assistere all'incontro del secolo di Pallacanese. Buonasera signore, stiamo per assistere all'incontro del secolo di Pallacanese. Buonasera signore, stiamo per assistere all'incontro del secolo di Pallacanese.